Grazie a tutti. Non dovrebbe vincere assolutamente, solo che mancano 13 secondi. Se è bravo, vedete che stanno facendo un po' di confusione perché 13 secondi sono veramente pochi. Adesso c'è, sì, allora adesso il nero è in una situazione particolare che dovrebbe, fatta, è paritappata perché purtroppo avrà un netto vantaggio di materia. Grazie a tutti. Grazie a tutti.